Un saluto a tutti da Stefano Adami, quest'oggi per Pillole di Mondo Eco vedremo come analizzare una rete NMEA 2000. Vediamo come dare un'occhiata alle funzionalità della rete NMEA 2000. Impostazioni. Network. NMEA 2000. Allora queste sono le classiche impostazioni del NMEA 2000, quindi se volete che riceva i waypoint da altri strumenti collegati in rete dovete selezionarlo così come se volete che li invii. E la sincronizzazione dell'illuminazione dello schermo, quindi potete regolare la luminosità di tutti gli schermi contemporaneamente con un solo tocco. E qua abbiamo, in questo caso abbiamo una rete perché stiamo facendo un pochino di video, quindi ci sono un pochino di cose collegate. In questo caso c'è un Go7 della Simrad, il nostro HDS 3.9 e poi c'è un Simrad, un Evo 2 collegato. Quindi qua vedete tutto quello che è connesso alla rete. Usciamo. Parliamo di diagnostica, quindi controlliamo tutta la rete come funziona. Diagnostica. Vedrete che qua ci sono tutti i messaggi che possono interessare soprattutto i vostri tecnici se dovete contattarli. di ricezione e trasmissione degli errori in EMEA o se come in questo caso tutto è corretto, va bene, vedrete che errori di trasmissione e di ricezione sono a zero. Spero che questa pillola di MondoEco vi sia servita e vi possa essere utile. Se è così, un like su YouTube fa sempre molto piacere, una condivisione ancora di più, commenti come se piovessero, iscrivetevi al mio canale per maggiori informazioni e maggiori pillole. Mi raccomando, andate a pescare. Ciao!